La celebrità italiana si è sposata all'età di 77 anni. Il suo nuovo marito è più giovane di 15 anni. Questa notizia era stata annunciata pubblicamente la scorsa primavera, anche durante un'intervista televisiva a Verissimo. Come aveva anticipato la popolare conduttrice nel salotto di Silvia Tofanin, le nozze sono state celebrate con un rito religioso nel suggestivo santuario della Madonna della Sorresca a Sabaudia, una chiesetta situata sulle rive del lago della località Pontina. Sì, stiamo parlando proprio di Rosanna Lambertucci, che si è unita in matrimonio con il suo compagno all'età di 77 anni. Il venerdì pomeriggio, la conduttrice TV e l'imprenditore Mario Di Cosmo si sono giurati amore eterno nel santuario Madonna della Sorresca di Sabaudia, durante una cerimonia religiosa molto significativa per lei. Successivamente, si è tenuto un ricevimento con 300 invitati a Palazzo Brancaccio. Secondo indiscrezioni, Eleonora Daniele e il marito Giulio Tassoni erano i testimoni della sposa. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.